Degrado in centro città ad Avellino a pochi passi dalla torre dell'orologio alle spalle di via Casale nel cuore del centro storico, uno spettacolo indecoroso. Vuoti di bottiglia, travi di legno abbandonate, alimenti in putrefazione probabilmente lanciati dai palazzi attigui. Nel parcheggio riservato ai dipendenti della provincia, adulti e bambini si lasciano andare a bisogni fisiologici e coppiette amorevolmente si appartano. A pochi metri da tre locali anche rinomati della città. Fino ad oggi le segnalazioni dei residenti sono tutte cadute nel vuoto. Quest'area, stando a quanto ci dicono, è vittima da tempo di episodi di degrado. Spesso comitive di giovani, approfittando anche della solitudine della zona, si abbandonano ad atti di vandalismo dai graffiti sui muri a bivacchi improvvisati, senza dimenticare gli schiamazzi notturni. La segnalazione che arriva dalle spalle di via Casale si somma ai diversi episodi raccolti in questi mesi che hanno per teatro le strade del centro storico. Il cuore di Avellini è una porzione di città ormai abbandonata a se stessa, trincerata tra i cantieri, vessata dall'incuria. In un simile scenario le attività commerciali, le poche sopravvissute, devono compiere salti mortali per andare avanti. Ogni segnalazione cade nel vuoto, ogni tentativo di interazione con l'amministrazione comunale non genera altro che un ennesimo invito ad attendere.